Non più comitato promotore di Lecce Capitale Europea della Cultura ma fondazione. In vista del verdetto del prossimo 17 ottobre, Lecce cambia pelle dotandosi di un ente terzo rispetto a tutti i soci promotori che fanno parte del comitato chiamato a gestire non solo tutti i fondi che arriveranno sulla città e sul territorio in caso di vittoria ma ad andare oltre il traguardo, nel caso questo non dovesse venire raggiunto, accompagnando la realizzazione di tutte le opere, le infrastrutture e i progetti nati in condivisione con la cittadinanza inseriti nel dossier di candidatura. Il varo della neo fondazione è avvenuto nel corso di un apposito consiglio comunale nel quale è stato approvato lo statuto STEP a cui farà seguito come da legge l'atto notarile costitutivo. All'interno della fondazione i sette soci fondatori del comitato, i comuni di Lecce e Brindisi, Regione, Provincia, Università del Salento, Camera di Commercio e Associazione Fucina Futuro. All'interno della fondazione, il cui scopo primario sarà quello di migliorare la dimensione europea dell'offerta della città, troveranno posto un presidente, un direttore generale, un direttore artistico, entrambi scelti con bandi internazionali, il collegio dei revisori, il consiglio dei fondatori, il forum dei sostenitori, il CDA, un consiglio scientifico internazionale, un gruppo di coordinamento, Stato-Regione, istituzioni locali. Tutti organi che saranno lautamente remunerati a lasciare così la porta aperta a future polemiche se la corsa alla candidatura dovesse concludersi con un nulla di fatto, sostenendo un carrozzone dei costi non trascurabili.